Cosa facciamo oggi Visello? Facciamo le teste di minchia Ah Facciamo Facciamo che Aaaaaah Facciamo La scarretta ci vuole Facciamo dei liquidi in tabac Tabaccosi Ricordate però Facciamo due liquidi I I Nuovi Insider del Vape Italy 2019 Eccoci qua con i due Insider I nuovi che hanno presentato al Vape Italy Mi ricordo l'anno scorso è stato fatto il Sascha e il Sebastian che salutiamo Ciao che ciao ragazzi E quindi partiamo con il Mazzei dai Partiamo con il Mazzei Mazzei allora il Mazzei potrebbe essere Leggi la descrizione Allora zio Mazzei Il tabacco assoluto Un blend ricercatissimo la cui ricetta è stata scritta da un grandissimo appassionato di tabacco Quale è? Antonio 2 punti Kentucky e Barley raffinati Come si affina il Latakia a cui viene aggiunto Virginia Rosso e Peric Alchimia finemente dosata di tutto lo spettro aromatico dei migliori tabacchi del mondo Un viaggio sensoriale straordinario Praticamente è Kentucky, Barley, Latakia, Virginia Rosso e Peric Lo proviamo su Berserk e MTL Con una coil complessa No 15 watt Non mi piace fare niente Sa tantissimo di tabacco Ci sarà l'attacchione spesso Si ma sa proprio solo di tabacco a me non piace Cioè parlate voi Allora io percepisco in aspirazione ovviamente la nota di Latakia e di Kentucky Dopo un po' vi arriva il Virginia Rosso Ovviamente è un blend per chi ama prettamente grandi tabacchi perché è stato fatto un grossissimo lavoro di miscelatura tipo English Misture o Balcan Misture veramente eccezionale Premetto che i tabacchi così non mi piacciono A me le misture così piacciono molto e quindi io gli do un bel otto e mezzo perché comunque a me piacciono Com'è? E' un tabaccoso vero tabaccoso Si è un po' dolcino quindi comunque un filino mi piace non è però io non riuscirei a svapparlo tutto il giorno potrei prenderlo e magari dopo il caffè tre tiri e basta e basta poca nota io svappo la tacca in purezza quindi questo mi aggana molto non mi piacciono i liquidi e tabacosi solo tabacosi poi organici quindi ancora peggio quindi il voto non lo do neanche ma io il voto lo do perché comunque è fatto bene si sentono bene tutte le varie note quindi per gusto personale gli do la sufficienza gli do un 6 però prende un bel 7 e mezzo perché insomma il sapore è quello il sapore è quello se devo dare un voto posso dare un voto a come è fatto il liquido nel senso che è un buon tabacoso comunque per gli amanti di tabacosi sicuramente questo piacerà sicuramente ecco passiamo al Claudio che dovrebbe sapere ve lo dico io allora tabacco cremoso cavendish prugna vaniglia caramello e castagna la lavorazione del cavendish prugna vaniglia caramello castagna e vino rosso questo qua potrebbe piacermi sempre berserker col complessa in 80 sulla box di Vincenzo sulla box di Vincenzo Club però non sul 900 a me fa lo stesso andatevi a vedere i video bastardi 0,77 vai 8 tiralo questo qua potrebbe piacermi perché non è solo un tabacco chiuso così questo è ispirato a un dolce buono buono quella frutta lì che non ho capito che cos'è però è buona frutta è prugna prugna vaniglia caramello castagna e vino rosso Claudio è un cuoco quindi buono 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 a me questo piace perché il tabacco si sente appena appena non è molto evasivo e le note fruttate si sentono bene questo mi piace molto questo gli do un bel otto molto particolare sento il vino rosso buono buono questo mi piace questo non dico che magari tutto il giorno ma mezza giornata lo svapperei volentieri questo qua questo è buono me gusta me gusta il tabacco io praticamente non ce lo sento rende il liquido secco quel tabacco che c'è io il gusto del tabacco non lo sento sento il vino rosso lo sento devo essere sincero e la prugna e si io sento la prugna si è una puntina di prugna io già che ci sono gli do sette a questo e sento quella parte cremosa caramellata che dice nella descrizione c'è del caramello vaniglia e caramello si è un tabaccoso dolce comunque questo qua questo mi piace di più io gli do un otto è buono mi piacciono i tabaccosi cremosi però preferisco più puro tabacco i tabacchi veri diciamo facciamo vedere cosa abbiamo fatto vedere facciamo vedere cosa abbiamo fatto vedere allora i due insider il matzei e il claudio presentate al Vap Italy signore provateli diteci qualcosa nei commenti seguiti su instagram recensiteli su flavorito.it che trovate il link qui sotto in descrizione fermate la petizione perché sennò siete dei cacirri bravo e bastardi benissimo ci vediamo al prossimo video con l'ultima sbappata del bisello nell'obiettivo va bene ciao